salve a tutti ragazzi benvenuti ad un altro episodio dove tratteremo il tema complottismo essere complottisti dei complottari video dall'interno della mia automobile come sappiamo chi nominerò questo personaggio durante questo video visto che trattiamo il tema di essere complottisti complottari dunque un complottaro un complottista costui come ci farà un'analisi tra virgolette un'analisi politica geopolitica in questo video farò un piccolo tutorial su come essere dei complottisti dei complottari essenzialmente servono due cose principali ovvero essere un po' prodittatura ed essere soprattutto anti occidentali come ci insegna il buon vecchio lambre nedetto infatti il lambre nedetto quando ci fa analisi politiche geopolitiche tra virgolette analisi cosa succede qual è la strategia che lui usa bene il lambre nedetto in molti video in alcuni video ci parla bene di dittature come quella del nord corea della corea del nord oppure della russia o dell'iran della cecenia cosa fa il lambre nedetto praticamente si concentra solamente sui pochi lati positivi che una dittatura ha omettendo quasi tutti i lati negativi di una dittatura che ne so in un video dove l'oda la cecenia ci fa vedere un pezzino di strada senza buche e ci vende questo pezzettino di strada senza buche come la verità assoluta come se in tutta la cecenia ci fossero solamente strade senza buche dunque è importante lodare dittature come quella della corea del nord no ci sono tanti video alcuni video in cui il lambre nedetto loda la corea del nord pur non essendoci mai stato per esempio ama lodare la russia un'altra assai dittatura mi sembra e soprattutto dovete essere anti occidentali infatti il lambre nedetto è un anti occidentale per eccellenza qualsiasi cosa i cattivoni americani facciano o i cattivoni europei allora è la fine del mondo è venuto anche no si è inventato questa parola la cricca questa entità che solo lui ed altri complottisti vedono che dovrebbe stare a suo detto dovrebbe stare in inghilterra quell'isoletta in alto a sinistra cose del genere dunque ragazzi allora per essere dei complottisti dei complottari 100% dovete essere pro dittatura e come si fa basta parlare solamente dei pochissimi lati positivi che una dittatura ha perché sono veramente pochi e dovete essere anti occidentali come pochi dovete concentrarvi su queste due cose essere anti occidentali e pro dittatura ok ma ragazzi allora per questo video tutorial su come essere dei complottisti dei complottari da manuale è tutto un caro saluto da da quattro forme del buzzo adesso metto la mia testa una dentro l'altra ciao ragazzi